Domani è una partita di grandissima importanza, ma ogni partita, visto che quelle che mancano alla fine del campionato diminuiscono sempre di più, ogni singola partita assume un valore sempre più grande. Domani è un avversario ostico, difficile, in classifica è vero che in questo momento sono in ultima posizione, ma stanno facendo delle ottime prestazioni, vendono cara la pelle in qualsiasi partita e in qualcuna delle ultime uscite hanno fatto zero punti, ma non meritavano di uscire sconfitti. È una partita che dobbiamo giocare bene, consapevoli che, come vi ho detto in precedenza, sarà la quinta partita in due settimane, quindi secondo me sarà importante giocare molto bene tecnicamente e soprattutto dobbiamo avere la capacità di mantenere le distanze vicine tra compagni e reparti, perché dopo tanto dispendio energetico è chiaro che se tendi ad allungarti, a perdere le distanze, poi diventa una partita che forse i nostri avversari sono più abili a fare rispetto a noi. Sicuramente qualche cambiamento ci sarà, sarà la quinta partita in due settimane ed è fisiologico che ci possano essere dei cambiamenti, sempre in relazione al recupero dei ragazzi, perché se ci sono calciatori che pur giocando tanto, ma sono riusciti a recuperare e sono in condizione ottimale, andranno sicuramente in campo. Però qualche cambiamento sicuramente ci sarà. Ma secondo me all'interno della partita ci sono tante mini partite da giocare. Io penso che il Grosseto cercherà di inibirci la nostra prima costruzione, venendo anche a prenderci uomo su uomo, questo me lo posso aspettare. Mentre in manovra riesce a chiudere spazi anche all'interno della propria metà campo e cercare di ingolfarci un po' gli spazi. Noi dobbiamo essere molto bravi nella prima costruzione, perché se riusciamo a eludere la prima pressione e il loro pressing, è chiaro che riusciremo ad attaccarli e a mettere un po' i nostri attaccanti nelle loro abilità migliori, quindi esaltando i loro pregi piuttosto che magari i nostri difetti. E quando invece riusciremo in manovra a metterli o dover attaccare spazi stretti, è chiaro che dobbiamo avere grande pazienza nel trovare il varco giusto e soprattutto dobbiamo stare molto attenti all'eventuale ripartenza e quindi riaggressioni e marcature preventive saranno un tema dominante nella partita di domani.